Burocrazia zero e lavoro, la nuova sfida di De Luca, conferenza di fine anno in regione Campania. Il governatore definisce gli obiettivi per il 2023 su sanità pubblica, lavoro al sud e burocrazia zero. Al via il nuovo concorsone per altre 5.000 assunzioni negli enti locali. Sant'Anchea a Ischia, così rinasce l'isola, la ministra incontra sindaci e operatori turistici e annuncia dare una nuova immagine per evitare che dopo il dolore ci sia la ferita economica, garantito l'impegno del governo per la messa in sicurezza del territorio. Napoli nuove tasse, De Magistris attacca, il comune decide per il 2023 di aumentare l'addizionale IRPEF e la d'imbarco a Capodichino. È un pacco per i napoletani, accusa l'ex sindaco di Napoli, ospite di punto di vista. Manfredi è un sindaco invisibile. Operaio morto in Umbria, dolore in Valle Caudina, sarà lutto cittadino a San Martino Valle Caudina nel giorno dei funerali di Carlo Clemente, l'operaio di 36 anni, deceduto sul lavoro in provincia di Terni. Intanto il sindacato accusa, basta morti bianche. Niente numero chiuso, scatta il piano sicurezza, Salerno si prepara al concerto di Capodanno che vedrà esibirsi Negramaro in piazza Mendola in prefettura dietro front sulle restrizioni, ma il comandante provinciale dei carabinieri assicura ci saranno serrati controlli. Benevento caos al Sampio, l'allarme dei medici dal vicepresidente dell'ordine Milano, nuovo appello ai cittadini a usare la mascherina e a sottoporsi ai vaccini per proteggersi da influenza e covid. SOS alle istituzioni servono investimenti sul personale. Questi titoli di oggi ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel News. In apertura conferenza di fine anno in regione Campania del governatore De Luca che lancia tre grandi sfide per il 2023 su sanità pubblica, lavoro al sud e burocrazia zero e già nelle prossime settimane parte il nuovo concorsone per altre 5 mila assunzioni. Da Napoli ci racconta tutto Rossella Strianese. Sì, buon pomeriggio. Noi ci troviamo a Napoli davanti alla sede della regione Campania dove questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di fine anno del governatore De Luca. Governatore che ha aperto rivendicando due grandi risultati politici per questo 2022-1 che riguarda l'autonomia differenziata e il dialogo che si è aperto con il ministro Calderoli per la pregiudiziale che ha imposto la regione Campania sui LEP l'approvazione dei livelli essenziali di prestazione e l'altro sul Fondo Sanitario Nazionale la ripartizione dei soldi per la sanità. Finalmente ha detto De Luca dopo dieci anni di battaglia siamo riusciti ad ottenere nuovi criteri per la ripartizione delle risorse alle regioni. E poi due novità che riguardano l'inizio del 2023 e cioè il rilancio del concorsone della regione Campania con altri 5 mila nuove assunzioni nella pubblica amministrazione e l'altra novità riguarda i rifiuti e cioè la sanzione europea che sarà ridotta già nei prossimi giorni di un ulteriore terzo puntiamo ad eliminarla definitivamente nel 2023 ha detto il governatore De Luca. Infine ha lanciato tre grandi sfide sul piano nazionale uno che riguarda la difesa della sanità pubblica l'altro per il lavoro e il sud e infine burocrazia zero e dunque direi di sentire le parole del governatore De Luca e poi linea allo studio. Lanceremo tre grandi battaglie nazionali difesa della sanità pubblica perché è chiaramente messa in discussione se non ci sono risorse non c'è personale è evidente che si sta lavorando per introdurre un'altra sanità anche in Italia fatta di assicurazioni e di cose che non aiutano la povera gente e poi ovviamente dovremmo fare una battaglia per il sud per il lavoro la seconda grande battaglia che lanceremo una sfida al governo un piano per il lavoro per i giovani meridionali 300 mila giovani a mandare la pubblica amministrazione e poi una sburocratizzazione radicale di questo paese. Queste tre grandi sfide possono aiutarci a mantenere l'unità nazionale ma anche a difendere i grandi servizi di civiltà e per quello che ci riguarda al sud e in Campania a bloccare l'emorragia di giovani che è diventata davvero intollerabile. Abbiamo perso nel sud negli ultimi dieci anni un milione e mezzo di giovani e il 40 per cento di quelli che se ne vanno sono giovani laureati. Cambiamo argomento il ministro del turismo Daniela Santanchea di Ischia lancia la campagna di comunicazione per non perdere l'indotto turismo vediamo. Vedete qua c'è l'Italia Astag di Ischia. Una campagna di comunicazione internazionale per evitare il crack turistico ad Ischia. L'annunciata è presentata il ministro Daniela Santanchea in visita sull'isola verde a confronto con i sindaci dei sei comuni e operatori del settore. Il primo scatto lo farò io oggi partirà il primo scatto della campagna Astag di Ischia perché vogliamo fare capire che Ischia è viva che Ischia si può venire e ci sono quello che c'è sempre stato. Foto dei volontari, degli isolani, degli operatori del comparto per mostrare ogni giorno lo stato quotidiano del piccolo angolo di Paradiso Campano perché spiega Santanchea a livello internazionale. La comunicazione trasferita è quella di una intera isola distrutta dal fango. Ma non solo, immagini attuali dell'isola e delle sue bellezze verranno affisse negli aeroporti internazionali così da non perdere importanti segmenti di mercato. Perché se guardiamo i dati anche di questo Natale rispetto all'anno scorso abbiamo la metà delle strutture ricettive aperte. Il ministro rilancia il distretto turistico come strumento essenziale per la ripresa. Quindi io voglio rassicurare tutti che il governo farà la sua parte. Ma dobbiamo guardare al domani. Dobbiamo concentrarci per far sì che si riparte alla grande. E lasciatemi dire, forse anche meglio. Dopo il via libera della giunta Manfredi per l'aumento delle tasse a Napoli scoppia la polemica. L'ex sindaco De Magistris, ospiti a punto di vista, lancia dure accuse. Vediamo. Un 2023 carico, carico di tasse, IRPEF e tassa d'imbarco dal nuovo anno a Napoli saranno più care. La maggioranza del sindaco Gaetano Manfredi ha approvato l'aumento dello 0,1% per l'addizionale IRPEF e due euro in più per la tassa d'imbarco. E come se non bastasse, Manfredi ha fatto intendere che aumenterà anche la tassa di soggiorno. Rincari che fanno scattare le polemiche. Il pacco per Napoli è questa l'accusa che lancia l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Durante la campagna elettorale viene indicato pubblicamente il patto per Napoli. Se vincerà Manfredi, il governo manderà i soldi alla città di Napoli. E così è stato. Sono arrivato Draghi, ha firmato il patto, sono arrivate con le valigie di soldi per le casse di Palazzo San Giacomo. Manfredi governa ormai da circa un anno e mezzo. I servizi sono addirittura peggiorati con tutti i soldi che hanno avuto, si sono triplicati gli stipendi e oggi, approvato il bilancio, anzi ieri in Consiglio Comunale di Napoli, scopriamo che come vanno a rimborsare il pacco per Napoli a questo punto, non più il patto per Napoli, con nuove imposte e nuove cabelle. Io trovo scandaloso che sanno da oltre un anno con le casse piene di soldi al Comune di Napoli e non si riesce nemmeno a garantire l'ordinaria amministrazione se non ricordiamo lo stipendio triplicato a sindaco e a sessori. Anche l'euro parlamentare Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, definisce la manovra finanziaria una gragnuola di nuove tasse e balzelli che soffoca lo sviluppo e rischia di disincentivare il turismo. E a Napoli però il turismo è da record, esulta la Camera di Commercio e da oggi via ai quattro giorni di eventi legati al Capodanno. Vediamo. Prendono ufficialmente il via i quattro giorni di festa per il Capodanno a Napoli. Dal 29 dicembre al primo gennaio, musica protagonista con tanti ospiti. Per la città si prevede una vera e propria invasione di turisti, strutture ricettive piene e boom di presenze. Per il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, ora è tempo di estendere non solo al centro storico ma anche agli altri quartieri di Napoli le opportunità legate al turismo. La città è piena di turisti e pare anche le prime due settimane di gennaio sono completamente piene. Io dico che dobbiamo coprire l'altra parte della stagionalizzata che va da gennaio a marzo, in modo da fare un anno pieno, ma in più dobbiamo allargare la fascia della zona dove i turisti possono andare, perché questa forza dei turisti non possiamo rimanerla solo su piazza o municipio. Allo stesso tempo la guida dell'ente camerale stoppa le polemiche sul rincaro da 2 euro per di turisti in partenza da Capodichino e non risparmia una stoccata alla precedente amministrazione. In tutte le città si paga di tutto e di più, le cose belle le altre città e gli altri paesi se le fanno pagare. Non dimentichiamo che la vecchia amministrazione ha rimasto qualcosa come 5 miliardi di euro di debiti che pesano sulla città e sulle iniziative. La cronaca a lutto nel comune irpino di San Martino Valle Caudina per la morte di Carlo Clemente, l'operaio di 36 anni deceduto sul lavoro in provincia di Terni. Sentiamo Paola Iandolo. C'è sconcerto e dolore nel comune di San Martino Valle Caudina, paese d'origine di Carlo Clemente, 36enne morto a Castel Viscardo in provincia di Terni, mentre lavorava. Il giovane, che lascia moglie e due figli piccoli, è caduto da un'altezza di 5 metri. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe battuto la testa. I carabinieri della stazione di San Martino hanno avuto il difficile compito di comunicare la tragica notizia ai familiari che questa mattina si sono recati a Terni per il riconoscimento della salma. A San Martino invece il dolore è forte. Il vice sindaco Mario Loiacop ha espresso il suo cordoio alla famiglia ricordando la persona di Carlo. La notizia ci ha accolto tutti di sorpresa. Sapevamo che Carlo era fuori regione per lavoro. Magari in un primo momento, perché mi avevano già allarmato il comandante dei vigili locali, mi aveva già allertato che era successo qualcosa a Carlo. Io pensavo di un infortunio sul lavoro, ma mai che Carlo avesse potuto incontrare la morte. È stata una notizia bruttissima, perché tra l'altro anche i soci hanno testimoni. Carlo era un ragazzo che si faceva volere bene da tutti, un ragazzo umile, un ragazzo dedito al lavoro, alla famiglia. È una notizia che ha sconsolato un pochino tutta la nostra comunità. L'amministrazione tutta, il sindaco è stato raggiunto anche dalla notizia. È stato proprio un bruttissimo pomeriggio purtroppo. I giorni in cui avremo notizie dei funerali predisporremo il lutto cittadino. Salerno si prepara al concerto di Capodanno che vedrà esibirsi Negramaro in piazza Amendola dopo il vertice in prefettura dietro fronte su alcune restrizioni, ma ci saranno serrati controlli. Vediamo. Capodanno a Salerno con meno restrizioni dopo il vertice in prefettura, nessun numero chiuso, zona rossa o limite di accessi per il concerto dei Negramaro, che si esibiranno in piazza Amendola. Dopo le proteste di ristoranti e bed and breakfast per le limitazioni imposte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, decaduto anche l'obbligo di comunicare le prenotazioni. Ci sarà però un controllo dinamico su residenti e turisti da parte delle forze dell'Ordine. Siamo presenti con rinforzi specifici per questo, già dal periodo natalizio e ovviamente anche nei prossimi giorni. Prevediamo ovviamente un afflusso di persone, di turisti superiore alla norma e conseguentemente il piano di controllo del territorio sarà rafforzato. Mobilitati centinaia di donne, uomini delle forze dell'Ordine e del pronto intervento per permettere a tutti di godere di una grande festa in sicurezza. C'è un piano di sicurezza che ovviamente sta per essere pubblicato, che prevede ovviamente delle aree di accesso e ovviamente un controllo che è finalizzato a garantire la sicurezza dei partecipanti. Tutti noi vogliamo trascorrere un Capodanno in felicità, in serenità e quindi assolutamente anche per noi è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. San Pio, il sindaco Mastella conferma a gennaio conferenza dei sindaci per discutere delle difficoltà e dal vicepresidente dell'Ordine dei Medici Milano nuovo appello alla cittadinanza a usare la mascherina e a fare i vaccini. Sentiamo. Le cone di ambulanze davanti al pronto soccorso del San Pio, proprio quando la stagione mernale entra nel vivo, segnalano una situazione preoccupante. Discuteremo con i sindaci della provincia quali iniziative istituzionali adottare. Arriba a dirlo il sindaco Clemente Mastella in vista della riunione con le altre fasce tricolore del Sagno, programmata per la seconda decada di gennaio. Intanto, dei medici di base, nuovo appello a cittadini e istituzioni. Stiamo vivendo il picco massimo influenzale e quindi tutta la classe medica, a partire da noi medici di medicina generale e quindi anche i colleghi ospedalieri, stiamo vivendo un momento di massimo impegno. Un disagio è dovuto esclusivamente alla carenza di personale, carenza di personale non solo medico. L'appello da fare è un appello sicuramente alla cittadinanza che deve cercare di proteggere se stesso e gli altri. In che modo? Innanzitutto facendo la vaccinazione anti-influenzale e questo naturalmente vale soprattutto per i pazienti fragili. La cittadinanza quindi deve cercare di portare e indossare la mascherina, lavare le mani, evitare assembramenti. Se questo è utile sicuramente non è sufficiente per poter combattere una situazione così importante, ma servono quindi anche un impegno pubblico. Difficoltà che, secondo il vicepresidente dell'Ordine dei Medici, richiedono una politica di investimenti per questo settore. Per cui che si faccia una politica di investimenti, investimenti mirati soprattutto al personale, ma anche il personale. Ancora a Sanità, l'ospedale di Solofra rinascerà e sarà struttura all'avanguardia. Il sindaco Moretti respinge le polemiche sui ritardi per completare il Landolfi. Ritardi nei lavori dell'ospedale Landolfi di Solofra, che doveva essere consegnato il 31 dicembre, ma dopo le rassicurazioni del presidente De Luca sul completamento degli interventi arrivano anche quelle del primo cittadino Nicola Moretti, a margine della conferenza stampa con tutta la sua giunta dopo i primi cinque mesi di mandato. Sarà una struttura all'avanguardia con ambulatori e risonanza magnetica. La facciata principale ormai è libera dal cantiere e domani è previsto un sopralluogo con il manager dell'azienda ospedaliera Pizzuti per scandire i prossimi passi dei lavori. Stiamo seguendo attentamente, quotidianamente, l'iter dei lavori. Un cronoprogramma che comunque era sulla carta, pare che l'80% è stato rispettato. Ieri mattina sono stato con il dottore Pizzuti e mi ha chiaramente trasmesso che già nei primi mesi di gennaio ci sarà già la prima fornitura di arredi. Sarà, secondo me, un ospedale che è un punto di riferimento del territorio e anche della regione. Anche perché ieri Pizzuti ci ha comunicato che è riuscita ad avere il finanziamento per la risonanza magnetica. Un'apparecchiatura che serve, ma la notizia che a me piace molto, a un sindaco piace il territorio, che al piano terra saranno istituiti degli ambulatori. Noi teniamo un problema serio sulla medicina ambulatoriale territoriale. Maglia nera per le strade salernitane, tra le più pericolose d'Italia e teatro. Di troppi incidenti stradali. Vediamo. Le strade salernitane sono tra le più pericolose d'Italia. Il numero di incidenti, spesso purtroppo mortali, supera la media nazionale e molti sono causati dall'uso di alcol e droghe. E quanto emerge dal bilancio stilato dall'ACI Salerno, da anni impegnata in campagne di sensibilizzazione per limitare i sinistri sul territorio, come spiega il direttore Giovanni Caturano. Salerno purtroppo è nella media nazionale, anzi in qualche caso anche di più, e sappiamo che il maggior numero degli incidenti avviene proprio in ambito urbano e anche chiaramente quelli più gravi avvengono per cause che conosciamo bene, la distrazione, l'uso dello smartphone, l'eccesso di velocità. Sono tutte problematiche che purtroppo conosciamo bene e che dipendono per la maggior parte dal comportamento umano. Quindi dobbiamo incidere sui comportamenti umani per ridurre il numero degli incidenti, dei morti e dei feriti sulle strade. Il lavoro di prevenzione per ridurre gli incidenti stradali è fondamentale. In verità ci stiamo lavorando tanto noi, stiamo lavorando soprattutto nelle scuole di ogni grado. Ormai sono vent'anni che c'è un progetto chiamato Progetto Icaro. Noi andiamo ogni anno in queste scuole per promuovere la sensibilizzazione alla sicurezza stradale e parliamo di alcol, parliamo di droga, parliamo del pedone, parliamo delle cinture, parliamo di tutte quelle problematiche che oltre a causare gli incidenti determinano i feriti negli incidenti stradali. Entro giugno la messa in esercizio provvisorio della linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina. I lavori sono a buon punto. Presto i disagi finiranno. L'auspicio dei pendolari. Fallarino. Sono ormai circa due anni che la tratta ferroviaria Benevento-Cancello-Napoli via Valle Caudina è chiusa prima per una serie di inconvenienti, come i due deragliamenti nella zona tra Il Sannio e Caserta, poi per i lavori di messa in sicurezza dell'unica linea ferroviaria EAB, in quota la regione, che da Benevento conduce fino a Napoli. Mesi e mesi di servizi sostitutivi con i bus che hanno però fatto registrare anche disagi. Ora le opere che consentiranno di raggiungere il capoluogo di regione in minor tempo e con più sicurezza. I lavori stanno andando abbastanza spediti. Si conta, insomma, nel 2023 di avviare dopo i primi sei mesi il preesercizio e poi, insomma, la parte che può attenere, che atterrà sicuramente, insomma, al trasporto ferroviario degli utenti su Napoli con una linea sicuramente molto, ma molto, riorganizzata. Entro la fine dell'anno, quindi, i viaggiatori potranno risalire a bordo dei treni dell'EAB e viaggiare lungo la linea che comunque potrebbe passare poi alle ferrovie. Una linea che sarà innovativa sotto l'aspetto delle attrezzature, quindi del segnalamento ferroviario, dell'armamento ferroviario, in più con treni di nuova generazione e con i standard di sicurezza tra i più innovativi in Italia e in Europa, quindi comfort, maggiore sicurezza e treni di ultima generazione e in più, insomma, la possibilità di raggiungere Napoli in tempi più rapidi e più brevi. Verso il congresso della CGL Avellino, importante momento di confronto a Palazzo Caracciolo sul ruolo delle aree interne con Antonio Bassolino e Giuseppe Gargani. Gli anni 70 in Irpinia sono i migliori anni della sua storia per la dialettica che si apre tra le forze politiche e la società civile. Ma oggi cosa resta dell'onda lunga del movimento operaio e sindacale che fece nascere anche nelle aree interne? Una forte domanda di partecipazione e progresso. A questa domanda si è tentato di dare una risposta nel corso del confronto, promosso dalla CGL di Avellino in vista del congresso provinciale che si terrà il 9-10 gennaio. Alla discussione hanno partecipato il segretario Fiordellisi, il presidente della provincia Buonopane Antonio Bassolino e Giuseppe Gargani, coordinati da Andrea Amendola. Per l'ex europarlamentare democristiano è necessario oggi recuperare il ruolo dei partiti e dei sindacati. C'era un'idea sia dei sindacati che dei partiti di quale società volevamo, una visione quindi come oggi si dice dell'Italia, del suo rapporto con l'Europa iniziale allora e del suo rapporto con il Mezzogiorno. Il problema del Mezzogiorno era un problema centrale allora. I diritti del lavoro sono stati conquistati in quel periodo e oggi vanno scemando proprio perché la politica è assente. Antonio Bassolino, che all'Irpini allega i migliori anni della sua formazione politica giovanile, invita a rilanciare il dialogo tra le aree interne e le zone costiere. Più c'è uno sviluppo che sa guardare all'insieme del territorio, alle diverse risorse, e meglio questo è per la campagna interna e per una città come Napoli. Guai a isolarsi, guai se la città di Napoli si isola dal contesto e guai se la campagna interna non riesce a dialogare. Un anno irripetibile per la ricerca in campo medico e sanitario. La fondazione Ebris a Salerno ha tracciato il bilancio delle attività. Happy New Ebris, con questo slogan la fondazione con sede a Salerno, nel brindisi in attesa del nuovo anno, ha accolto colleghi ed amici. Un'occasione anche per tracciare il bilancio di questi 12 mesi del 2022, che sono stati particolarmente significativi per una delle strutture di ricerca più importanti in assoluto. Il 2022 è stato un anno magico per Ebris perché siamo riusciti non solo a consolidare alcuni progetti che erano già iniziati anche in fase pre-covid, ma abbiamo avuto la fortuna di avere tre nuovi progetti europei, di cui due ci vedono come centro coordinatore. Poi abbiamo anche la fortuna di essere parte di un'altra cordata che ha a che vedere con le malattie infiammatorie croniche, soprattutto di quelle reumatiche. Ad allietare la serata le voci del coro pop che hanno fatto da cornice agli interventi dei relatori. Dopo il messaggio a distanza di Ron Clayman si sono susseguiti Francesco Valitutti, Matteo De Notaris, Dario Siniscalco e Anna Maria Giordano. La fondazione Ebris guarda al futuro con ottimismo. Ci siamo mostri dall'incredulità in una dimensione visionaria, puntando su noi stessi e vivendo dei programmi e dei progetti che sono stati approvati. Quindi in questo con una logica finanziaria che è solamente legata alla virtuosità dei progetti e delle idee. Vogliamo continuare a crescere così e a non crescere da soli, ma sviluppare sempre di più quelle relazioni internazionali che ci servono per il futuro. E' tutto allora per questa edizione di 8 Channel News. Grazie regia Adaldo Felizia. Buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.